allora buongiorno buongiorno insomma per modo di dire mi raccomando iscrivetevi al canale che domani facciamo un punto sulla fiorentina seguiamo le possibili evoluzioni commentiamo tutto e adesso ci troviamo a commentare un risultato un ennesimo risultato devastante o qualcosa di di anche cioè questo 1 a 4 è un risultato che va anche al di là di quello che abbiamo visto di negativo in campo perché io in realtà ho visto una squadra che fino all'1-2 della Roma diciamo aveva anche giocato bene si avvertiva il brio della partita precedente avevamo avuto qualche occasione con Boateng poi passo a commentare i vari singoli non temete abbiamo subito questo 1-2 della Roma abbiamo pareggiato siamo andati a riposo anche con una buona lena diciamo con una buona speranza vogliamo chiamarla così di poterla pareggiare forse ipoteticamente poi c'è stato quell'errore di Dragoschi quel gol diciamo di Pellegrini che è stato più che altro un errore di Dragoschi lì la partita è praticamente finita ho avuto comunque la sensazione per tutta la per tutta la partita che stessimo giocando non solo contro un avversario più forte ma cosa ancora più grave con un avversario molto cinico esperto a cui è bastato poco per dosarci tra virgolette c'è una Roma che ha fatto la sua partita ma l'ha vinta in tranquillità sta partita c'è non è che hai visto una Roma che ha fatto sta prestazione che dici caspita ha vinto così ha vinto in maniera tranquilla ha vinto una partita di routine cioè è stato un 1-4 di routine per la Roma ed è da questo che da questo e altro che poi analizzerò in questo video che capisci che c'è stato un divario tecnico devastante c'era in campo e giocavi contro la Roma non è che giocavi contro la Juve contro l'Inter un divario tecnico devastante specie a centrocampo vogliamo parlare del mister perché adesso tutte tutte le riflessioni in maniera sbagliata saranno rivolte al mister vogliamo parlare di quello che io ho apprezzato della squadra imputabile all'allenatore i gol quasi tutti quelli più importanti diciamo i primi tre possiamo dire che li abbiamo presi da degli errori dei giocatori poi certo la fase difensiva si può anche curare meglio però uno è un pallone perso da castrovilli errore di pezzella errore del portiere e questi sono i gol più importanti poi l'ultimo di zaniolo possiamo definirlo una formalità a partita già compromessa la formazione scesa in campo dall'inizio non mi dispiace se non per una cosa cioè questo continuo far giocare d'albert quando abbiamo un terzi che viene richiesto dall'atalanta che ha fatto una buona partita contro il monza in coppa italia e non si sa perché non vede mai il campo ma per il resto la formazione che abbiamo è questa e poi andiamo a valutarla ecco non mi non mi è piaciuta la gestione dei cambi questo sicuramente no perché hai fatto per primo un cambio che potevi fare per ultimo cioè quello di pedro sottile entrato troppo tardi quando potevi tranquillamente togliere boateng per far entrare lui per il resto la squadra ragazzi a livello mentale cosa vuoi imputare la squadra non era neanche scesa in campo a livello mentale in maniera negativa è stata in partita per per diverso è stata in partita a livello mentale attenzione tecnico quasi mai ma a livello mentale la squadra è stata in partita per diverso tempo poi è una squadra di giovani è una squadra che è fragile che è in un momento del genere e diventa difficile diventa difficile rincorrere specie quando davanti hai una squadra molto più tecnica e più forte della tua e poi le paghi l'uno a quattro l'hai preso perché la squadra era sbilanciata il risultato secondo me è un po troppo ampio è un po troppo ampio la roma ha meritato la vittoria perché se voi andate a vedere i numeri possesso palla tiri tutto quanto è una vittoria meritata secondo me comunque risultato un po troppo ampio figlio di quella che è stata l'evoluzione della partita andiamo a valutare i singoli dragoschi ragazzi dragoschi a me spiace perché criticare un portiere non è come criticare un terzino un centrocampista è un ruolo molto delicato ma io vi dico è giovane per carità a parte che ha fatto anche lui delle scenate estive che me l'hanno fatto già scendere quest'estate se vi ricordate ma a me i portieri che fanno una parata da fenomeno e poi non ti danno certe il portiere deve dare certezze il portiere deve dare certezze purtroppo dragoschi da inizio stagione ad oggi certezze non te ne ha date ti ha fatto vedere ottimi numeri ma le certezze sono un'altra cosa non è fare una partita da 8 una da 4 un numero da 10 un numero da 3 e fare partite da 6 6 e mezzo 6 6 più 6 meno 6 e mezzo 5 e mezzo 6 e mezzo 6 6 6 e mezzo questo è il portiere migliore non uno che fa numeri da fenomeno e poi si perde e spesso questo succede la difesa oggi pezzella se con l'inter mi era piaciuto oggi almeno a a dei a degli sbagli sulla coscienza anche casseres ultimamente purtroppo sta un po calando milenkovic segue l'andazzo della squadra oggi lirola ecco lirola non mi è dispiaciuto è un lieve crescita da qualche partita ma a livello ragazzi questo pulgar bace stiamo a commentare la prestazione di chi di pulgar di badel di boateng sono stanco spero si sia capito quello che che si è sempre detto su questi giocatori su questa squadra stasera se devo salvarne tra è salvo castrovilli che pure ha sbagliato perché ha perso lui palla in occasione del primo gol salvo vlaovic che sembra abbastanza in condizione e lirola per la partita che ha fatto boateng oggi era da far giocare più che altro per premiarlo per quello che per quella mezza roba che ha fatto contro l'inter ma per il resto lasciamo perdere vogliamo parlare di pedro volete che commentiamo la prestazione di pedro entrato tra l'altro paradossalmente troppo presto rispetto a dei cambi fatti troppo tardi ma che dovevano essere altri montella ragazzi cosa volete che vi dica è mio mi dispiace io non non do la maggior parte delle colpe a montella per questo tipo di situazioni non le do non le do ha le sue colpe ma le componenti maggiori sono altre voi pensate che dobbiamo fare in teoria se si fa un mercato di riparazione con chi con chi ha costruito questa squadra ma io onestamente lo dico anche volendo bene al nostro direttore sportivo che è uno che è stato con noi in momenti felici simpatico ma io a vedere che magari viene mandato via un allenatore che paga il non riuscire a cavare sangue dai muri da una squadra del genere mi sentirei male io e quanto meno direi guardate paga montella ma ho fatto anch'io i miei sbagli lo ammetto purtroppo abbiamo costruito una squadra in maniera incompleta in maniera sbagliata ho sbagliato anch'io io questo lo gradirei molto perché qui purtroppo c'è una squadra che paga un divario tecnico stasera stasera enorme con una squadra che storicamente per carità sempre stata più forte di noi la roma sempre stata una squadra problematica per noi ma stasera si è visto un divario tecnico enorme ma non solo anche esperienziale e la cosa brutta è che anche la roma ha i suoi giovani ma sono giovani inseriti in un contesto di crescita in un contesto affamato positivo noi siamo spauriti qui c'è c'è qualcosa che non va ma c'è qualcosa che non va che è una cosa che diciamo da 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 mesi da mesi da mesi da quest'estate da scelte non fate si vuole cambiare allenatore io vi dico non sono d'accordo perché è prendersela con la punta dell'iceberg si può essere d'accordo per dire è l'unica cosa che possiamo fare per cercare di dare una sistemata per provare un colpo di coda per vedere se si riesce a far meglio però per con questa squadra qua ragazzi ci sono errori di costruzione ci sono situazioni tecniche veramente veramente incommentabili a volte si mettono anche a fare cappelle quei giocatori dei quali ti aspetteresti quantomeno delle sicurezze quantomeno delle sicurezze io non io non sono sono triste stasera anche perché non ho visto una squadra lo dico onestamente non ho visto una squadra che meritava questo risultato a livello di come è scesa in campo però paghi paghi l'inesperienza paghi il tuo livello tecnico inferiore paghi le distrazioni paghi tutto paghi perché hai anche sfiga hai anche hai anche sfiga negli episodi sfiga negli errori sfiga c'è anche una componente purtroppo di quella che poi infinitesimale però cosa ogni ogni parte che guardi in sta squadra c'è da muovere rimproveri guardi la dirigenza gli errori che sono stati fatti quest'estate guardi il mercato guardi sicuramente anche l'allenatore ma guardi i giocatori guardi la resa di taluni guardi la mancata crescita di tanti altri il fatto che chiesa è stato più fuori che dentro gente che sembra essersi persa gente mai trovata è un disastro a 360 gradi e vi ripeto stasera l'hai anche pagato di più di quelli che sono i tuoi demeriti questo è un simbolo tra virgolette stasera ma di qualcosa di molto profondo e c'è gente invece che continua ad analizzare la punta dell'iceberg la punta dell'iceberg preoccupati io spero che questa squadra abbia le qualità per poter salvarsi tecniche secondo me le ha anche a livello di calendario stasera e domenica hai affrontato due squadre molto più forti di te vediamo cosa succede se qualcuno può dar una scossa ma qui ripeto vi invito a non fossilizzarvi sulla punta dell'iceberg ma su tutto l'iceberg e sott'acqua c'è tanto sott'acqua c'è tanto caro saluto iscrivetevi grazie grazie